Eccoci qui, ciao ragazzi, come è stato? Un saluto a tutti dai campioni d'Italia ai campioni d'Italia. Vi invito a lasciare un bel like qui sotto e iscrivervi sull'uomo di Milanello numerosissimi, mi raccomando, fatelo. E scaricate l'app di numero 10, fatelo, ve lo consiglio in fretta, perché domenica assegniamo la prima maglietta del Milan della prossima stagione, quella ufficiale, quella con lo scudetto, e tra domenica e martedì anche tra biglietti per Milan Odinese della prossima settimana. di fatto tra otto giorni inizia il nostro campionato, quindi mi raccomando, scaricatela, scrivete il vostro nome qui sotto, fatelo se non l'avete ancora fatto e partecipate appunto a questo concorso, oltretutto, soprattutto, numero 10, l'app numero 1, con tanti contenuti multimediali e anche i nostri interattivi, davvero il top, l'app più scaricata per appassionati di calcio e di Milan. La maglietta invece in questione la trovate su milanello.com, ieri un nostro amico ha preso la prima maglietta di CDK Mania che trovate sempre su milanello.com, CDK che domani, finalmente, ragazzi, ho grande attesa, grande adrenalina, grande entusiasmo e attesa, vediamo in campo, non dall'inizio a gare in corso, però finalmente quando vediamo entrare CDK esplode davvero a CDK Mania e si prepara ovviamente a questa stagione che speriamo possa essere molto esaltante. Un'ultima ora con mercato, con indicazioni molto interessanti che dobbiamo approfondire insieme anche dall'intervista della Gazzetta di Stefano Pioli, che ha dato segnali importanti. Mi è piaciuto molto quando ho detto che l'altro giorno ho dovuto frenare la squadra perché in allenamento stavano alzando i ritmi e l'intensità a livelli clamorosi, quindi c'è tanta voglia e l'altro giorno sono stato anche io a Milanello, dentro, abbiamo consegnato il premio Aleao, a breve sarà pronto anche il video top, ragazzi, bellissimo che non potete perdere. Ho visto davvero il clima dei tempi migliori e questo è una cosa che ci fa molto piacere. Allora, sul mercato, attenzione, intanto una cosa molto interessante su CDK è perché Pioli ha chiesto a Orighi un parere, in quanto con nazionali giocano insieme anche nel Belgio e pensate un po' alla faccia dei non paragoni o dei paragoni di basso profilo, Orighi dice è metà Avertz e metà Kakà. Alla faccia del bicarbonato di sodio direbbe qualcuno davvero qualcosa di molto, molto importante. Vediamo, ripeto, poi i paragoni aspettiamo a farli, però in questo caso l'ha fatto il suo compagno di squadra e di nazionale, quindi un significato in più lo avrà, lo conosce meglio di tutti. Comunque giocherà appunto magari dieci minuti e un quarto d'ora con il Vicenza e poi domenica un tempo con la Pergolettese in un'altra amichevole. Adesso arriviamo al discorso mercato, comunque ha detto che è un ragazzo molto curioso, intelligente, che assimila, che tocca palla con eleganza, bello da vedere, quindi ci darà emozioni. Su Adli si sta inserendo benissimo, a volte si muove fin troppo ma sta imparando in fretta, è molto intelligente, gioca in verticale, verticalizza, trova i compagni. Quindi forse ecco Pioli dice che deve gestirsi un po' nel dispendio energetico, fisico, senza palla, perché forse si muove un po' troppo, deve tenere magari un po' di più una certa posizione per riferimento maggiore anche ai compagni. E poi su Ibra non c'è ma c'è, sempre punto molto importante, insomma cose interessanti. Tomori Calulu rendimento eccezionale, Pier è cresciuto in modo incredibile, in campo sempre più grosso di quanto è davvero, è maturo e umile, Pier è una capacità di lettura del gioco, una presenza comunicativa importantissima, è un punto di riferimento, sono molto felice di rieverlo. Sulle AO che ho visto, che ho premiato, e vi ho fatto vedere anche una foto, si vede, non sono preoccupato affatto per le vicende contrattuali, si vede che è felice di stare con noi, potenzialmente un campione per forse capacità di saltare l'uomo, ha tanti gol nelle gambe, anche più di quelli dell'anno scorso, è cresciuto tanto senza palla, ora deve riuscire a occupare meglio l'area, ragazzi sono stra d'accordo, le AO l'anno prossimo ci trascina, ragazzi tenetevi forti, allacciatevi le cinture, state tranquilli, io sulle AO l'anno prossimo punto, tutto e di più, ha svoltato proprio da un punto di vista mentale, l'ho toccato con mano, ho visto un ragazzo serio, concentrato, educato nei due minuti della consegna, ma anche off the record a microfoni spenti, ho visto un ragazzo cambiato rispetto a qualche tempo fa, come lo vediamo in campo, e sono sicuro che quest'anno ragazzi, le AO sarà il top della stagione, Lukaku Vlach, io credo che quest'anno il signor le AO sarà ancora l'MVP della stagione. Però attenzione capitolo mercato, ci siamo sempre stati abituati a un Mr. Pioli piuttosto abbottonato, un Pioli che magari sul discorso mercato ha sempre risposto, sono molto sereno perché so che ho alle spalle dirigenti bravissimi, la squadra mercato ha dimostrato grande competenza, quindi mi affido loro, il gruppo che ho a disposizione comunque è all'altezza, sono contento di quelli che ho, eccetera, eccetera. Credo di non sbagliare, potrei sbagliare, ma non credo in questo caso di sbagliarmi, in questo caso Mr. Pioli forse per la prima volta mette i puntini sulle inchiave, mercato assolutamente non con nota polemica, ma dice comunque a mezzo stampa in questa intervista, interessante, che cosa? Attenzione, sulla carta mancano due ruoli, il difensore e il centrocampista. Noi non vogliamo sostituire chi se n'è andato con dei Sosia, anche perché è un altro che si non c'è. Ci servono due caratteristiche, esplosività e intelligenza. E allora fermi, innanzitutto lui dice ci servono difensore e centrocampista, quindi il difensore oggi con Gabbia, con Kier, con Tomori e Calulù serve. Significa, facendo due più due, credo, che se va via Gabbia, di difensori ne servono due. A meno che Gabbia resta, anche se noi sappiamo che dovrebbe andare alla Samp, a quel punto ne serve soltanto uno. Quindi lui dice comunque il difensore serve, ed è evidente. Il centrocampista non parla di sostituto di Romagnoli con caratteristiche. Tra parentesi, Romagnoli ha detto una cosa che non mi è tanto piaciuta. Preferisco il gioco di Sarri, è più adatto a me, è più tattico, c'è meno uno contro uno. Non lo so, io fare riferimenti al piatto dove hai mangiato fino all'altro ieri, lo trovo sempre un po' inelegante fare paragoni, confronti, però apro e chiudo la parentesi, non mi interessa, guardiamo avanti. Detto questo, dice un altro che sì, non c'è, quindi servono giocatori con caratteristiche diverse. Esplosività, quindi uno esplosivo e intelligente. Questo fa scopa con un passaggio in cui dice di Tonali che sostanzialmente quest'anno avrà meno licenza di offendere. Nella parte finale scorso anno lui andava spesso, si inseriva, ha fatto gol col Verona, con la Lazio, eccetera, eccetera. Quest'anno dice potrà andare ancora ma con meno frequenza, quindi avrà compiti più difensivi. Tradotto, il che sì dell'anno scorso un po' più difensivo, muscolare, sarà tendenzialmente il buon Sandrino Nostro Tonali. Anche perché sulla tre quarti ci sarà un giocatore con caratteristiche e propensione più offensiva come De Kettler, che evidentemente fa anche una fase non possesso ma meno completa rispetto a quella che faceva Cassie. Quindi un Tonali che può andare ma meno, più abbottonato, e un De Kettler che invece può svariare e trascinare con assist e gol. Può giocare sul centro-destra De Kettler, un altro passaggio interessante di questa intervista. Però ecco, sull'identikit quindi esplosività e appunto intelligenza. Un giocatore che deve essere intelligente ed esplosivo, quindi tradotto l'esplosività, da un punto di vista fisico è uno che tendenzialmente ha una marcia in più rispetto alla media, no? Che sì, aveva questa marcia in più, lo stesso Tonali è uno molto esplosivo. serve per capire l'identikit uno che abbia quella marcia in più anche a livello fisico e atletico, oltre che la testa e l'intelligenza per collocarsi in una nuova formazione, mettersi a disposizione dei mister e soprattutto dei compagni in campo. Bene, bene direi, direi che soprattutto il passaggio su lineamenti che sono sempre di altissima intensità, anche fin troppo, ci fa ben sperare e la conferma comunque di un difesore in centrocampista che arriveranno. Anche se qualcuno dice potrebbe rimanere così meno al centrocampo, ecco, tendenzialmente non credo. Un altro passaggio, si parla anche di possibile difesa 3 o di giocare con il 4-3-3, da Varaima mi aspetto molto, non c'è menzione alcuna su Bakayoko. E questo è un indizio in più, una testimonianza in più sul fatto che Mr. Pioli su Bakayoko non ci punta. 0-0-0. Questa mattina ha parlato anche Martina lì, di fronte alle voci del Bakayoko sarà la vice che sì, non scherziamo, mi unisco al suo appello. Ragazzi, scaricate l'app di numero 10, qui sotto vi metto il link, fatelo numerosissimi, mi raccomando. Scaricatela oggi, domani, perché domenica assieme la prima maglietta della prossima stagione, e poi tra lunedì e martedì tre biglietti per Milano Udinese, quindi fatela scaricare anche amici, parenti, fratello, sorella, fidanzata, amico, perché nel caso ci andate voi, se la vincono loro, con loro appunto allo stadio. Scaricatela numerosissimi, mi raccomando, l'app numero 1. La maglietta la trovate su milanello.com, un bel like, in descrizione qui. Ecco, mi stavo dimenticando, vi consiglio anche di iscrivervi al canale amico di Milanello, DNA Rosso Nero TV. Mi raccomando, fatelo numerosissimo, un saluto a Mimmo, e a tutti voi un abbraccio, forza a Mimmo, non ci più chiamate, ma neanche quello di più, più tardi, un videomercato con novità fresche, fresche, fresche. Ciao!